Il tema del gap di competitività di Palermo rispetto ad altre città del Nord Italia e dell'Europa non può essere separato dal problema della competitività dell'isola della Sicilia e quindi col tema dell'insularità. Sappiamo bene quanto l'insularità costi alle nostre imprese oltre 6 miliardi all'anno e il compito di ripianare questo gap spetta non solo alle autorità europee con i fondi europei ma anche e soprattutto allo Stato italiano. Allora quello che io vorrei che tutti ci chiedessimo è lo Stato italiano, il nostro Stato, in che direzione sta andando? Che paese stiamo diventando? Perché vedete uno dei primi investimenti internazionali che si potrebbe fare subito per Palermo è quello che io ho chiesto ancora mesi fa, cioè mettere la sede a Palermo della nuova Agenzia Europea Anticorruzione. In Europa il governo Draghi potrebbe indicare l'Italia, perché ci spetta, come sede di questa nuova Agenzia Europea molto importante di cui si è annunciata la necessità di creazione. L'Associazione Banca Italiana ha supplicato, ha pregato il governo italiano di avanzare questa richiesta ma non è stato fatto e personalmente sono stata l'unica parlamentare italiana, eurodeputata italiana che ha avanzato questa richiesta di Palermo. Immaginatevi soltanto la quantità di investimenti e di ritorno economico che avrebbe la città se venisse messa qui la sede di un'agenzia così importante che sarebbe la sede perfetta vista la competenza della magistratura palermitana e specializzatesi in anni di lotta alla mafia. E sarebbe un segnale bellissimo anche a livello internazionale per una città come Palermo. Ma purtroppo il nostro governo, il governo di Roma, non ha alcuna attenzione per il sud e soprattutto per le isole. E di questo dobbiamo essere molto consapevoli, basta guardare gli anni che abbiamo aspettato ad ascoltare promesse sulla realizzazione del ponte sullo stretto che naturalmente non interessa al nord e quindi non è un investimento importante per il nostro paese perché se interessa solo al sud e soprattutto alla Sicilia meglio aspettare e fare qualche cos'altro. E questo è un tema sul quale non si può far finta di niente. Il problema della coesione territoriale si risolve anche dotando la Sicilia e la Sardegna di collegamenti aerei e questo governo ha distrutto la nostra compagnia aerea di bandiera. All'Italia è stata rasa al suolo da una gestione devastante, volutamente devastante per anni che approderà con l'accessione a una grossa compagnia estera. Ita è arrivata, è già prossima al crollo e senza collegamenti aerei me lo dite come fa un'impresa di investire in un'isola? Grazie. Grazie. Grazie.